musica ok Mike ci possiamo andare si appunto se spingiamo c'è gente in quel bunker lì se noi chiudiamo da destra uno 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 Grazie a tutti Orkodornet per qualsiasi passare bisogna spingere Ho preso la torre Ho preso quella della torre Manca quello Sparano da tutte le parti L'ho preso, tango 2, vai Figa Basi Grazie Che bello aspetta Aspetta ci sperano dal camion, dal pullman E poi se ne sono uno sulla torre probabilmente Proviamo a spingere da destra Eh Fate tutto il zio dai Attenti anche all'autobus Sì, un attimo Attenti eh Vengo uno Oh 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 libero l'ho aperto dietro l'unico colpo era dietro il mio unico colpo è lo sparato nel culo 1 2 libera l'attore libera l'attore l'attore questa qui dentro dentro guarda la torre se c'è qualcuno si spara è dietro a quell'angolo lì del barile rosso 1 attento